Perché saccomanno? È un intruso, un impostore all'interno delle nostre istituzioni, con il preciso compito di mettere al sacco il nostro paese. Non rappresenta gli italiani onesti, quelli che lavorano, ma rappresenta delle forze avverse al nostro paese, con il preciso compito di mettere al sacco l'Italia e il suo ruolo sarà quello di perfetto esecutore materiale. Uno strozzino con il compito di portare via all'Italia risorse e ricchezze in questo momento indispensabili per la ripresa del paese. Per cui, in nome della gente onesta, della gente onesta che realmente rappresenta il nostro paese, chiedo a saccomanno di, con tutto rispetto, di togliersi dai coglioni!